Ciao a tutti ragazzi, io sono MerloCraft e oggi stiamo qui nell'undicesimo episodio del mio Let's Play moddato Allora, prima cosa che faremo in questo episodio, crafteremo un Charger, Charger Motherfucker E andremo a metterlo nel nostro setup, che costruirò a breve qui dietro Allora, innanzitutto facciamolo diventare un attimino più bello da vedere facendo così Nice Metteremo il nostro Charger qui E poi probabilmente possiamo fare così E qui dovremmo spaccare, perché mi servirò di una cosa che ormai conoscete molto bene E andremo a craftare un altro ennesimo, ennesissimo Ormai mi ricordo il crafting a memoria, non mi serve più E pum, un pistone, un blocco di red Vediamo se indovinate cosa sto per craftare Probabilmente l'avete già capito Se ho della stone Non sembro avere della stone Oh, ne ho uno Lo possiamo fare? Oh sì, non lo so E... bam Sties, factory manager again Il carro dovrebbe essere qui da qualche parte E possiamo scendere dalla rapida Dalla rapida Mettiamo il nostro factory manager là dietro E poi prendiamo il nostro inventory cable Li mettiamo qui e qui E poi mi servirà Intanto una strada per arrivarci Poi la chiuderò Boom 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 Perfetto E mi serviranno altri due better barrel Userò un sacco di better barrel in questo episodio Warning, better barrel, warning Quindi mi serviranno semplicemente dei log E una chest Che ho leggermente dimenticato Cosa sto facendo? Ah, aiuto Mattina Voglio solo vedere cos'è sta cosa Bark, ok Interessante Minecraft Ah, interessante Non lo sapevo Ok, bene Possiamo craftare un sacco di chest Perché mi serviranno Prossimamente E poi facciamo un po' così Hop Hop E una slab Abbiamo una slab Abbiamo una slab Perfetto Mi piacciono tantissimo i better barrel Non so se Si è capito ultimamente Ma mi piacciono un sacco Allora facciamo così Rimettiamo a posto E Ah, non mi posso più Vabbè Poi fixerò tutto E lasciatemi scrivere un programma veloce Perché ragazzi Appena ho scoperto una cosa Mi servirà più polveri di Certus Quartz E Certus Quartz normale Perché non possiamo Usare questa cosa Con il Certus Quartz E quello più Questo qua Quindi dovremmo andare A Prendere più Certus Quartz normale Quindi I'll be right back Mi aspetta un po' di mining Ok ragazzi Un Endermini Mi ha attaccato E quindi sono morto Ma adesso vado a riprendermi la roba Prima di andare Però già che sono qui Volevo vedere Un po' come sta andando Il nostro boiler Quindi scendiamo Oh Oh Le shit 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 Con una mazza Ovviamente E Allora Vediamo di organizzarci un attimo Prendiamo qualcosa che Danneggi Come questa Quanto ha l'attac damage? Più due Vabbè Non è il massimo Però E E andiamo a distruggere Quel figlio di Dov'è? Oh Sa che mi uccide? Eh eh A sto punto vado a ucciderlo a mano E sì Senza la mia heartless Faccio un po' di fatica perché Forse dovrei lasciare qualche strumento qui a casa Però quando muoio Sono una idea molto intelligente in effetti Adesso tu Vieni qui Figlio di pucana E vai a caricare Oh Biancraco mi è droppato E vediamo Andiamo a vedere Oh Un sacco di roba Corsdort Un sacco di clay Pit Che è buonissimo Mycelium Podsol Sabbia Molto bene Decaying grit Si usa per qualcosa No Praticamente no Heat sand si usa per qualcosa Per creare la slime soul sand Oh Tinted soil Bianca si prende Dallo sludge boiler Ok ragazzi Ecco un trucchetto Allora Io devo far Correre questi cavi Ora vi spiego Devo far correre questi cavi Fino al nostro Charger Per dargli corrente Però Non posso fargli toccare Questi cavi Perché questi non hanno la corrente Se non in certi momenti Perché Come sapete Li disattiviamo Allora Devo far correre Queste due linee di cavi Una vicina all'altra E cosa faccio Metto delle cable anchor Che sono facilissime Da cartare Su Sui cavi E i cavi Non si connetteranno Guardate Oh Nice E possiamo Entrare In questa roba Che è Poi il nostro sistema Di Avere Una cosa Sempre Correntata E no Aspettate Non ci serve Questo cavo Nice E adesso Provo come Esco Ok ragazzi Sta funzionando Vedete che il nostro Sortoscore Sta diventando Charged Bitch please Motherfuckers E ora Possiamo Anche Fare così E poi Per farlo diventare Un attimo più bello Intanto Rimettere al suo posto La scala Non buttarla per terra Ma rimetterla Al suo posto Sto Nice È diverso Non so perché Però Amen E poi 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 Prendere le nostre Cable Anchor E fare così Se non sbaglio E Come Cane SeaCraft Ah ok Buchi di memoria Facciamo delle Cable Facade Network Esthetics E possiamo mettere La facade Qui E boom Non si nota Quasi Molto quasi Ma non si nota Potremmo metterne una Anche qui Volendo GG E Per il resto Qui ho messo Un hopper E ho fatto Un po' di Printed circuit Silicon Intanto Ne farò alcuni Di Di gold Perché ne abbiamo E quindi Why not Poi qui Eventualmente Andrà il nostro Super sistema Che vi ho fatto vedere La fine dello scorso Episodio Però Intanto Non ce l'abbiamo E quindi Lo costruiremo Probabilmente Prossimamente Quindi forse anche In questo episodio Anzi direi che Possiamo andare A costruirlo Ora Così poi abbiamo Tutta l'automatizzazione Che ci serve Quindi mi preparo E lo costruisco E poi vi faccio vedere Un po' come funziona Ragazzi ho finito il ferro Non ci credo Dovrò tornare A minore per il ferro Ok ragazzi Penso di essere arrivato All'ultimo codice Vediamo se funziona Ora tutto dovrebbe essere Funzionante Stadam Tu Ora sta funzionando Sì Ah no Mi manca una trama Ora dovrebbe funzionare Vediamo Tutto dovrebbe essere Automatizzato Sbam Vedete che questo Inscriber sta funzionando Qui non ci sono Ancora oggetti Ma arriveranno Presto Prestissimo Direi I miei fps Sono bassissimi In questo momento Non so perché Ma cercherò di risolvere Ad ogni modo Vediamo se io voglio Dei calculation Processors Non devo fare altro Che prendere Dei pure Fluix Crystal Per esempio 12 Inserli qui dentro E verranno automaticamente Processati Ora io cercherò Di prendere Soprattutto Tu non dovresti andare Lì Dovresti andare qui Tu anche Dovresti andare qua Fino a quando Non ho Un processore Di quelli diamantosi Let me Really quickly Do one Finchè non ho un processore Di questi Non posso Settarli Ecco Adesso è tutto Corretto Tutto è finito Nice nice Perfetto ragazzi Ora che abbiamo Le basi del nostro sistema Fatte Io direi che Possiamo continuare Con la Applied Energistics E cominciare A fare le cose Serie Quindi la prima cosa Che voglio Craftare È un AnyDrive Quindi credo Che mi serviranno Due di questi Processori Diamantati E quindi andiamo A prenderne Un altro Prendiamo un altro Diamante E lo mettiamo Qui dentro E lui lentamente Arriverà qui Come processore Diamantatizzato Ora intanto Stavo facendo Quelli di Ora abbiamo finito La redstone Ci servirà un sacco Di redstone Quindi Io direi che Tra questo segmento Il prossimo Prima di cominciare A fare Le cose serie E io vado Un po' In caverna A prendere Un sacco Di redstone E un sacco Di ferro Soprattutto Queste due cose E il quarzo And then We'll be Right back Diamanti Diamanti Diamantissimi Allora Uno Vabbè Erano sempre diamanti Altri diamanti Tipo dopo dieci secondi Perché me li ho trovati qua Adesso ne ho trovati qua Quindi vediamo se questi Sono di più Uno Due Due Per fortuna ho fortune Quindi ne prendo un sacco Però Se trovassi una vina Da sette otto diamanti Riuscirei A Fare un po' più di cose Però Vabbè L'oro comunque ce n'è tantissimo Oh altri diamanti Stop 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 Madonna ci sono diamanti ovunque In questo chunk Vediamo quanti ne ho presi in tutto Ventisette Buono 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 Tra l'altro ragazzi La redstone Andarla a minare Con altri diamanti E' passato dieci secondi Nell'ultima clip Erano qui gli altri diamanti Siamo seri Oddio Eh dicevo La redstone Prenderla con fortune È troppo qui Perché te ne da tipo Sette otto Per pezzo E Ce ne sono tipo Venti Altri diamanti Ma che cazzo Ce ne sono sempre due Ma Guardate Io non lo so Io veramente non lo so Vi giuro che non Ma Adesso Tre blocchi Altri diamanti Adesso non chiudo la video Perché fra tre blocchi Ci saranno altri diamanti Di sicuro Guarda Guardali No Vabbè Guardate 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 Ho fermato il video Qui E qui ci sono i diamanti Ma mi sembra giusto Mi sembra molto giusto Questi sono tanti anche Guardate Ok direi che possiamo tornare a casa Anche perché ho finito le torce Ma abbiamo preso in totale 54 diamanti E Tanti stack di redstone Quindi direi che è stata Una spedizione positiva Adesso salirò un po' di livello E Erano diamanti quelli? No era silver Salirò un po' di livello E andrò a cercare Andrò a cercare Del ferro Quindi andrò più o meno A livello 30 40 E andrò a cercare del ferro Quindi GGVP Ok ragazzi Questa cosa comunque È velocissima Perché avevo lasciato Un sacco di robe a fare Tipo Vedete 44 34 15 E le hanno fatte tutte In 5 secondi Volevo fare una terza Acceleration card Per ora ognuno ha 2 acceleration card Devo fare una terza Ma Non ne vedo il bisogno A dire la verità Penso che lo lascerò così Anche se probabilmente Alla fine metterò la terza Perché Ehi Speed Ok ragazzi Per il momento Due stack Qualcosa di ferro Possono bastare Cioè ne ho trovato uno stack Però moltiplicato Diventeranno due Abbiamo anche trovato 46 Certus Quartz E poi Junk Che andrò a mettere qui dentro Per intanto E poi Vedremo cosa farci Allora Perfetto Possiamo bloccare questa GG Mettere un altro paio di cose via Come il quarzo Questo va di sotto Tap La mettiamo tutto dentro Qui a caso Perché tanto Fa un po' Questi sono gli ultimi momenti di vita Per queste chest Quindi GG Allora Voilà Mettiamo ricaricare il nostro hammer E Piccone Al suo posto Questo ha detto che va di sotto Perfetto Allora Vediamo Quanti charge Abbiamo solo Perché questo si è fermato Ci sono questi attivati No E che problema c'è C'è corrente Sì stiamo andando benissimo E allora perché tu non stai chargeando C'è un problema ai cavi Ok Allward in Si ho disconnesso un cavo Mentre ho mosso Degli inscribe Adesso dovrebbe tutto funzionare Vero Tu ti stai chargeando Chargeati Vediamo se lui Vediamo se lui si chargea Sì Sì si si Sta funzionando tutto bene Abbiamo già dei charge Stratus Quartz Che direi di mettere insieme Alla Redstone Qui dentro Per fare altri Fluix Crystal Perché sono La cosa principale Che vogliamo Al momento Quindi Prendiamo Della Redstone E del Nethercord Che sto finendo Quindi devo andare a prenderne Un po' anche di quello Però per l'intanto Va bene così E Squirt 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 Perfetto Allora Volevo creare Intanto Un Emi Drive Quindi Emi Drive Ci servono Sono incendere dei cavi Due di questi E dei cavi Che non ho Anche Ah sì Ho dei cavi Però me ne serviranno Sicuramente di più E quattro di questi Sbambam Sbambam Ora Probabilmente siete familiari Con questo strumentello Adesso devo trovare un posto Penso che li metterò Qui sotto Qui sotto Qui dentro Non lo so Per l'intanto Lo metterò qui nell'angolo Poi vedrò Troverò un posto definitivo Per l'intanto Forse potrebbe essere già questo Il posto definitivo Ma per l'intanto Metteremo qui Quindi Sbamb 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 Perfetto Ci sta benissimo Allora Probabilmente siete già familiari Con questi cosi Allora Ripiazziamo le nostre crafting Qui sotto Potrò metterli Potrò metterli qui sotto Potremmo fare Non così Precisamente non così Potremmo fare Una cosa così E così Nice Allora Allora Ci servirà Quindi innanzitutto Dei dischi Quindi Mi Disc E Come cane si chiama E Disc Cell Eccoli qua Partiamo dagli 1k Come si craftano Allora Questi sono molto facili Quindi prendiamo Della redstone Di sopra Dei pure Motherfucker Squirt Crystals Questi qua E I nostri Basic Shitty Questi qui E possiamo craftarli Quindi facciamo così Così E così Intanto facciamo 6 Poi voglio Gridarli In 4k Quindi questi qui Quindi me ne servono 3 Se non sbaglio Un calculation Process Del quartz glass Quindi ci serviranno Due di questi Del quartz glass Potrebbe essere Un problema Dobbiamo creare Della Nether quartz Della quartz dust Comunque Della polverina di quartz Dovrei avere qui dentro Nice Non dobbiamo neanche Polverizzarla Guardateli Abbiamo del ferro Che è sempre utile Quindi me lo porterò giù E E 1 1 2 3 4 Spada Bim Quartz glass E possiamo mettere Il nostro quartz glass Combinato No Dimmi che lo vedo Dai ragazzi Combinato Con queste E Bam A fare I nostri 4k Poi per craftare Poi per craftare I dischi Ci servirà Dell'altro quartz glass Redstone E ferro Quindi Dell'altro quartz glass Redstone E ferro Vediamo se è giusto Yes Nice Burma Intanto possiamo craftare Uno Lo mettiamo qui dentro Ovviamente questo adesso Non funziona Dovremmo dargli corrente Dovremmo fare tutto Ma lo faremo in un attimo E poi dovremmo craftare Altro quartz glass Quindi Ci servirà semplicemente Dell'altra polverina Dell'altro vetro Quindi Spada Bim Bada Bam Spada Bim Bede Bem Spada Bum Bada Bam Perfetto Abbiamo 2 4k Per intanto Ora ci serve Creare il nostro Emi network Dargli assolutamente corrente Quindi Entrare in un energy Acceptor E prendere corrente E danno un energy Acceptor Quindi Per intanto Useremo quello Che abbiamo già qui sotto Se avessimo dei cavi Lo useremmo Ma siccome Noi li abbiamo Non lo usiamo E ci servono dei cavi Quindi Mi serve Della quartz fiber Che dovremmo avere Qui dentro Se non mi ricordo male Non mi ricordo male Perfetto Poi ci serviranno Dei fluix Madafaka Ci servirà della sabbia Ci serviranno un po' di cose Allora guardate Progamer Adesso mi organizzo Sabbia Sabbia Guardate L'organizzazione Delle chest Che tra poco Per fortuna Spariranno Sabbia Sabbia Fluix merve Fluix merve Pulveriter Il pulveriter Poi Eventualmente Metterò degli elevator Qui perché Mi stanno leggermente Compendo le scatole Ma le enderperle Al momento Mi servono Che cazzo Sto facendo Le enderperle Al momento Mi servono Per altre cose Come Cominciare un nuovo mod Presto Non ora Ma presto Perché non ne abbiamo Quindi in uno dei prossimi episodi Comincieremo a formare enderperle Ad ogni modo abbiamo 20 cose qui Da Splop 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 Plop 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 Da cuocere Accendiamo la nostra Leaver lever Ah è già accesa Me la sono dimenticata accesa Perfetto Non c'è problema No ma Tu dovresti essere spento Questa cosa non mi quadra Vado a fare un po' di riguai Comunque devo anche togliere quella leva E ci rivediamo Et voilà Adesso è online Dopo qui Chiuderò tutto Metterò un po' di blocchi Anzi alcuni Direi che posso già metterli subito Quelli che ho nell'inventario Spam E spam Cool Ora ci serve un terminal Ci serve un terminal Per vedere le nostre cose Quindi crafteremo Un emicrafting terminal Quindi andiamo sopra Dove abbiamo tutti i nostri materiali E vediamo come si crafta Un emicrafting terminal E dopo penso che chiuderemo l'episodio Con il nostro sistema super base Però vabbè Allora intanto Craftiamo un emicrafting terminal Un illuminated panel Quartz class Allora Quartz class Che ne abbiamo Ma ne abbiamo poco Quindi dobbiamo craftarne altro Craftiamo un po' Perché serve sempre Ho visto Non me lo aspettavo Così presente Questo Quartz class Cioè me lo ricordavo un po' presente Però non me lo ricordavo così presente Ecco insomma Facciamo così Così E non mi ricordo già più come si crafta Ok quindi Questi vanno in mezzo Questi vanno qui E qui ci va Un iron Bam Tre illuminate panel Perfetto Ce ne dà anche tre Così possiamo utilizzarli in futuro Allora ci serve Una formation core Quindi Ah ok Abbiamo della fluix dust Non credo Ci serve Danno dei fluix crystal Quindi Creiamo dei fluix crystal Velocemente Dovrei tenere Del nether quartz E della redstone qui Andiamo a prendere Del nether quartz Uno due Uno due Andiamo qui sotto Uno due Uno due Uno due Cool Abbiamo degli altri fluix crystals Qui ma noi servono questi qua Perché questi si possono maggiorare Gli altri no Per qualche motivo strano Quindi Boom Due Tre E quattro Nice Ora con questa fluix dust Ci possiamo creare Il coso Il Formation core E l'annihilation core Quindi ci servirà Un Surtus quartz E un nether quartz Quindi uno di questi E un nether quartz Uno di questi Poi della redstone Come sempre Quindi in teoria Dovremmo fare così Vediamo se mi ricordo Il crafting a memoria E così Non mi ricordo Il crafting a memoria E Ah sì La no Giustamente La fluix dust Che abbiamo appena Craftato Quindi No Ti piace Ah e non ci va la rezza Ma c'era un logic Ecco c'era quasi però Mettiamo Quattro di questi E poi Craftiamo degli Annihilation cores Quindi Ci servirà Del nether quartz Proprio quattro la Abbiamo 4 e 4 Perfetto Possiamo Creare Il nostro Crafting terminal Quindi Boom boom Così Uno Poi Una crafting table Non dovrebbe essere un problema Se abbiamo Del nero Nell'inventario Una crafting table Ed un Calculation processor Che non è neanche Quello un problema Perché Che palle Perché continua A raccogliere questi semi Del cane Mi stai guardando per il culo Beh allora Guarda Sai cosa ti dico Fottiti Ah giusto Abbiamo tutto questo ferro Qui dentro E ho tolto il clock Per evitare Che succedessero casini Quindi Rimettiamo il clock Così Il nostro ferro Si processa Quanto ne abbiamo C'è un'ora da 6 Buono Buono Allora Vediamo Cosa stavo facendo Ah ci serviva Un calculation processor Per poter Craftare Il nostro Crafting terminal Nice Adesso noi lo mettiamo qui Ci servirà Una facale Una facale Quindi Craftiamo una facale 1 2 3 4 Sbam Sbam E adesso abbiamo Il nostro crafting terminal Crafting terminal Perché? Ah Ti ho detto così Per piacere E adesso noi possiamo mettere Le nostre cose qui dentro E abbiamo E le stiamo storando Su questi dischi Quindi Tra questo episodio Ed il prossimo Io semplicemente Mi metterò A mettere Tutte le nostre cose Qui dentro Tranne le cose Quando ne barili Perché sarebbe stupido E Dopodiché Craftare Molte più Cell sotto E nel prossimo episodio Parleremo più Della Applied Energistics Scopriremo Che cos'è Il sistema Dei Scusate Voglio mettermelo Come piace a me Scopriremo cos'è Il sistema Dei channels Perché è un sistema Molto predominante Stra virgolette Nella Applied Energistics E gg Ad ogni modo Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio Per la visione Vi rimando i post video Che caricherò E ciao ragazzi